Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa prima parte di recensione di Final Doom. Lo so, è passato un po' di tempo da quando ho pubblicato la recensione su Master Levels e di questo me ne scuso. Ma credetemi che in questo periodo sono stato veramente occupato, tra studi, vita privata, canale e amici. Non riesco davvero a gestire tutto, né tanto meno a scrivere una recensione. Ecco perché, tanto per farvelo sapere, questo è il terzo tentativo di scriverne una recente. Come sappiamo, Final Doom non è stato creato internamente da Light Software, ma da terze parti. La prima, TNT Evolution, quella che analizzeremo oggi, è stata creata dal team TNT, mentre l'altra, ovvero The Plutonia Experiment, dai fratelli Dario e Milo Casali. Come Master Levels, sono chiamati livelli aggiuntivi, ma in realtà entrambi i WAD sono veri e propri mod, e veri e propri megawad, che vanno a sostituire completamente i 32 livelli di Doom 2. Il progetto di TNT Evolution, per quanto faccia fatica ad ammetterlo, è molto più ambizioso e complicato di Plutonia. Level design poco lineare, mappe grandissime, segreti sparsi dappertutto, e una longevità che va oltre le 30 ore di gioco la prima volta che si gioca a questa compilation di livelli. Il tutto però ad un prezzo. Se nelle prime mappe si nota un livello di sfida e di qualità delle mappe molto più alto rispetto a Doom 2, nella seconda parte di questo WAD la qualità è veramente altalenante, ma in modo da far rabbrividire chi gioca. O ci sono delle mappe piccole e semplici, o mappe grandi e difficili, o mappe semplicemente brutte e che finiscono dopo pochi minuti. Questo continuo saliscendi di qualità far sorcere il naso ai giocatori che sono stati abituati, troppo bene, alla qualità delle mappe e alla difficoltà di Doom 2. Sempre crescente e sempre migliore dal punto di vista qualitativo. In TNT ciò non avviene, e quello che noto ogni volta che ci rigioco è questo mio piccolo pensiero. È come se gli sviluppatori si siano dedicati maggiormente alla prima parte del WAD per poi lasciare la seconda a morire. Come se non bastasse, il WAD ha anche un game breaking bug. Se raggiungete la mappa 31 da soli, non potete completare la mappa a meno che non scarichiate una patch che renda visibile la chiave gialla, o a meno che non usiate il metodo che vi insegno nel video appositamente dedicato a quel livello. Insomma, tante piccole cose che potevano rendere TNT persino migliore di Plutonia per la cura nei dettagli, ma sfortunatamente non è così. Sinceramente, ad oggi, lo ritengo il WAD peggiore tra quelli canonici. Come al solito, vi espongo il mio pensiero in merito alle 5 mappe migliori e alle 5 mappe peggiori di TNT. Fatemi sapere nei commenti se avete un'opinione diversa dalla mia, e come al solito ricordatevi che si tratta appunto di una classifica personale. Partiamo dalle mappe peggiori. In quinta posizione troviamo la mappa 0-9, Stronghold. Sebbene il level design sia carino in questa mappa, io non posso fare a meno di ripensare all'inizio assurdo dove non potete in alcun modo evitare di prendere danni. In più, ma quanti nemici ci sono all'interno della mappa? Quanti chain gunners soprattutto? Seriamente, ci sono troppi nemici con X-CAN e il level design della mappa non vi permette di evitare i colpi facilmente. Alla quarta posizione troviamo la mappa 20, Central Processing. Vi faccio una domanda, soprattutto a coloro che giocano a Doom da parecchio tempo. Quanto vi aspettereste che duri in media una mappa di Doom? 10 minuti? Massimo 20? Beh, se siete arrivati qui, scordatevi queste tempistiche, perché sulla wiki di Doom è stato stimato che in media un giocatore esperto ci mette dai 35 ai 40 minuti. A meno che non si faccia una speedrun. Avete capito bene? 35-40 minuti. La peggiore dannazione, poi, è il fatto che se vi dimenticate di salvare dovete ripetere tutta la mappa da capo. Analizziamo adesso il level design. Si parte in una base che finisce in un tempio, che finisce su delle montagne che si affacciano sul lago. Eh? No, non state sognando. Non ha alcun senso questa mappa. Alla terza posizione troviamo la mappa 21, Administration Center. Una mappa peggiore della numero 20 esiste, ed è strettamente collegata, perché è la mappa successiva alla mappa 20. Allora, adesso, il level design ha un pochino più di senso rispetto alla precedente, perché ha un tema. Ma, seriamente, cosa diavolo mi vuole comunicare questa mappa? Perché ci sono dei cambiamenti repentini di texture? E soprattutto, ve lo ricordate il muro che è taggato come una porta, in realtà? No? Rieccovelo riproposto. Giocare a Doom non l'aveva... nessuno l'aveva mai pensato di fare questo. Un muro con dentro dei colpi, ok? Guardate se cosa succede, rimarrò schiacciato? No! L'intera zona è una porta. Avete capito bene? All'azione di una porta. Guardate. Che pena, veramente. La seconda posizione se la giudica la mappa 22. Habitat. Io... Io non so come sia possibile che una mappa del genere sia finita nella compilation di Final Doom e magari qualche altra più carina è stata scartata. Il level design è orrido, non si capisce assolutamente nulla. In più, quanto è divertente mettere corridoi strettissimi con all'interno nemici messi in fila indiana. Non ha alcun senso. E poi, ve lo dico io, non è affatto divertente. La prima mappa è... Dai che lo sapete. Dai che lo sapete. Mappa 27, Mount Pain. Avete presente tutto quello detto fino ad adesso? Di problemi, di corridoi, delle mappe che sono taggate male. Bene, combinate tutto al quadrato e mettete la bastardaggine del level design a livelli epici. E otterrete Mount Pain. Zone apertissime che non vi permettono di evitare i colpi dei nemici con hitscan. Nemici nascosti dietro i muri finti. Danni assurdi, vita e armature in quantità veramente misera è una mappa che dura 35 minuti. È un dannato inferno. E se volete divertirvi e sentirmi sclerare, vi consiglio di cliccare sul link in descrizione. Un video vecchio di quasi un anno, è vero. Ma merita davvero, secondo me. Passiamo adesso alle mappe migliori di questa compilation. Al quinto posto troviamo la mappa 6, Open Season. Una mappa del tema molto specifico e che riesce magnificamente nel suo intento. Vi fa esplorare con non poca difficoltà, ma con una quantità di armatura e vita molto buona. Un plauso va alla soundtrack di livello che vi trasmette angoscia e terrore se giocate con le cuffie. Al quarto posto metto la mappa 12, Crater. Immaginate tutto quello detto prima, per la mappa 6, ed elevatelo al quadrato. Mappa costruita divinamente, con una zona all'aperto molto interessante e nemici posizionati in modo da prendervi di sorpresa, ma che non vi uccidono immediatamente. Ancora una volta, la scelta della soundtrack di livello è da applausi. Mappa immersiva come poche su TNT. Il terzo posto va alla mappa 31, Pharao. Adoro questa mappa, nonostante il game breaking bug, e vi spiego anche perché. Trovarsi per la prima volta in Doom, in una piramide egizia, ed utilizzare i monstri come se fossero delle statue che si animano, è una scelta di level design che raramente si vede in Evolution, ma che francamente rende l'idea di mappa pericolosa, tuttavia bellissima da esplorare e da ammirare. La soundtrack del livello, poi, è la mia preferita di Evolution. Vi trasmette calma, nonostante dovrebbe fare il contrario. È il contorno di mistero e scoperta che rende questa mappa semplicemente ottima. Al secondo posto c'è la mappa 01, System Control. Ogni buona mappa iniziale dovrebbe prendere esempio da questa. Ma parliamoci chiaro, era difficile replicare l'effetto da inizio di WAD di Ultimate Doom e di Doom 2, ma System Control riesce perfettamente nel suo intento, comunicando al giocatore che la difficoltà è aumentata, ma che se gestisce bene le proprie risorse, può superare ogni ostacolo che gli verrà proposto da adesso in poi. Un'ottima introduzione, a mio parere, che merita davvero un applauso per come è stata concepita. Al primo posto c'è la mappa 32, Caribbean. Questa vince a mani basse su tutte quelle di TNT Evolution. Level design faboloso, misto ad una sfida di livello medio-alto e con un obiettivo che è semplice da capire quanto da fare, battere il cyberdemon e uscire dal livello. A tratti, potrebbe persino non sembrare una mappa di Evolution, perché vi giuro che se giocate questa mappa persino dal pistol start con i codici, vi divertirete un mondo a completarla. Scelta di gameplay non noiose, ma intuitive, chiavi che si trovano facilmente e orde di nemici posizionate in modo da darvi fastidio, è vero, ma se siete muniti di munizioni per le giuste armi, finirà tutto in tempi molto brevi. Bene ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me anche per questo video. Vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto e noi ci vedremo nel prossimo video dove analizzeremo The Plutone Experiment. Alla prossima!